Come funziona la cosiddetta previdenza complementare? Complementare a cosa? Complementare alla previdenza dello Stato, ovviamente. Ci sono delle forme pensionistiche collettive, ovvero che sono fatte in genere da interi settori lavorativi o aziende, le forme pensionistiche individuali, ovvero alle quali si aderisce per iniziativa individuale. Cioè io per conto mio decido di sottoscrivere. Le forme collettive in genere sono i fondi pensioni chiusi, si chiamano chiusi proprio perché ci possono aderire per esempio solo i lavoratori della chimica o solo i lavoratori dello spettacolo, eccetera. Poi ci sono i fondi pensioni aperti che sono fatti sia per adesioni collettive che per adesioni individuali. E poi ci sono i famosi PIP, cioè piani integrativi pensionistici. Questi PIP sono forme individuali, cioè sono forme alle quali si può aderire come privati cittadini. Come funzionano? Funzionano tutti nella stessa maniera, ovvero se ci sono gli aderenti viene versata la contribuzione che è volontaria, ossia lo decide il contribuente quanto versare. Flessibile vuol dire che se io smetto di contribuire a 32 anni e ho cominciato a contribuire a 20 anni, questo non mi pregiudica nulla. Posso smettere di versare dai 30 ai 32 anni e ricominciare a 32 anni e nessuno mi viene a cercare. Non ho obbligo, non ho vincoli, non perdo niente. Le contribuzioni sono deducibili, ovvero se lo Stato ci dà una facilitazione fiscale per versare su queste forme, proprio perché lo Stato ci dice, visto che hai preso la bella iniziativa di provvedere da solo alla tua pensione e non farmi provvedere a me, almeno ti aiuto fiscalmente, ti incoraggio fiscalmente a farlo. I soldi vengono tramite compagnie assicurative, banche, eccetera, investiti sui mercati finanziari. Si arriverà a un momento in cui si sarà accumulato un capitale, questo capitale viene convertito in rendita nel momento della pensione e diventa una pensione aggiuntiva. I vantaggi fiscali sono la parte che fino ad ora è stato il motivo più interessante, più attrattivo di versamento sui fondi pensione, infatti sui fondi pensione ci hanno versato, ci stanno versando molti 50-55 anni in condizioni economiche agiate per approfittare della deduzione fiscale, persone alle quali non interessa un granché costruirsi una pensione, ci stanno versando abbastanza poco i giovani perché ahimè tante volte non hanno le risorse fisiche per poter aprire un fondo pensione. I contributi sono dedotti dall'imponibile, quindi che vuol dire nel limite di 5.164 euro, se io guadagno 20.000 euro l'anno e verso 5.000 euro di pensione pagherò le tasse su 15.000 euro l'anno, cioè su 20.000 euro meno i 5.000 euro che ho dato il fondo pensione, c'è libertà di adesione, contribuzione, trasferimento, si può trasferire quando si vuole il fondo pensione da una banca all'altra, da un'assicurazione all'altra dove si vuole, c'è la possibilità di avere in casi particolari delle anticipazioni fino al 75% del capitale che hanno accumulato, chiaramente è intoccabile il patrimonio, impignorabile, insequestrabile e poi c'è l'ente di vigilanza che è la Covid, pare che ora la vogliano smantellare però ancora non c'è niente di deciso.